Preghiera dei Vespri, venerdì, seconda settimana del Salterio. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Gesù Redentore, immagine del Padre, luce ed eterna luce, accogli il nostro canto. Per radunare i popoli nel patto dell'amore, distendi le tue braccia sul legno della croce, dal tuo fianco squarciato e fondi sull'altare i misteri pasquali della nostra salvezza. A te sia l'odeo Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, libera l'anima mia dalla morte, il mio piede dalla caduta. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio, nel giorno in cui lo invocavo. Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi. Mi opprimevano tristezza e angoscia, e ho invocato il nome del Signore. Ti prego, Signore, salvami. Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso, il Signore protegge gli umili. Ero misero, ed Egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, alla tua pace, poiché il Signore ti ha beneficato. Egli mi ha sottratto dalla morte, ha liberato i miei piedi dalle lacrime, ha preservato i miei piedi dalla caduta. Camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, libera l'anima mia dalla morte, il mio piede dalla caduta. Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenta, non prende sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte, il Signore ti proteggerà da ogni male, Egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Giuste e vere sono le tue vie, o Re delle gente. Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente, giuste e veraci le tue vie, o Re delle gente. Chi non temerà il tuo nome, chi non ti glorificherà, o Signore, tu solo sei santo. Tutte le genti verranno a te, Signore, davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Giuste e vere sono le tue vie, o Re delle gente. Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra salvezza. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla, se l'avessero conosciuta non l'avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto, infatti, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano, ma a noi le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Cristo è morto per i nostri peccati, per ricondurci al Padre. Cristo è morto per i nostri peccati, per ricondurci al Padre. Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello Spirito, per ricondurci al Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cristo è morto per i nostri peccati, per ricondurci al Padre. Signore, ricordati della Tua misericordia, come hai promesso ai nostri padri. L'anima mia magnifica il Signore e il mio Spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della Sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cosa ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il Suo nome. Di generazione in generazione la Sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del Suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele il Suo servo ricordandosi della Sua misericordia come aveva promesso ai nostri padri ad Abramo e alla Sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Ricordati, Signore, della Tua misericordia che hai promesso ai nostri padri. Benediciamo, Cristo, Pastore buono e misericordioso, che ha asciugato le lacrime dei poveri e dei sofferenti. Raccolti nella comune preghiera, invochiamolo. Pietà del Tuo popolo, Signore. Cristo, Signore, che consoli gli umili, poni dinanzi ai Tuoi occhi le lacrime dei poveri. Raccogli, Signore, il gemito dei morenti il Tuo santo angelo, li visiti e li conforti. I profughi e gli esiliati possano sperimentare la Tua provvidenza, fa che ritornino felicemente alla loro patria e siano un giorno cittadini della Gerusalemme celeste. Vinci con il Tuo amore coloro che vivono nel peccato, fa che si riconcilino con Te e con la Tua Chiesa. accogli nella Tua pace i nostri defunti perché godano pienamente i frutti della redenzione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. O Dio che hai rivelato il mistero della Tua sapienza nella follia della croce, donaci di riconoscere nella passione la gloria del Tuo figlio perché la Sua croce sia sempre per noi fonte di speranza e di pace. Egli è Dio e vive regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.